Ancora una volta ciao ragazzi e bentornati su Amnesia La mappa che stiamo affrontando è Dark Room E questa è la seconda parte Ricordiamo che nella prima parte ci siamo scagazzati addosso parecchio Perché abbiamo incontrato... E' chiuso Abbiamo incontrato diversi dei mimi classici di internet Tra cui Trollface, bastardo Niancat e Pedobear E in questa seconda parte chi manca? Manca Megusta Manca Forever Alone E poi... Eccolo qua Eccolo qua Guarda va bellino Oh povero Forever Alone E' brutto Sei solo Sei brutto Qua chi c'è? Qua chi c'è? Qua chi c'è? Troll Chi è? Qua non c'è nessuno Ok Forever Alone Puoi andare anche lì Tanto rimarresti solo Degame Qua chi c'è? Qua chi c'è? Eh Aprire Aprire Grazie Grazie Non c'è nessuno neanche qua Oh Megusta Va va C'è Megusta Ehi Megusta Perché non vai con Forever Alone? Così non sarà più Forever Alone Eh Potreste diventare due Megusta Eh Ok Eh andiamo Andiamo con coraggio Con coraggio Con coraggio Affrontiamo Eh La parte finale La seconda Oh Sup What's up Questo non lo Non è Forse non è andato in Italia Questo mimico Quindi non lo conosceremo Qua è chiuso Ok Mi serve una chiave Ce l'hai tu? Mr. Sap Eh Ce l'hai tu la chiave che ci serve? Eh Ehm No Dov'è la chiave? Rispondi Dove? Devo andare a cercare la chiave Non è che ce l'ho No Dov'è la mia chiave? Allora non è che si può aprire Io sono se Sono uno scemo Vaffanculo Ok 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 Qua chi c'è? È chiuso? Ok Qua chi c'è? Eh eh Qua non è chiuso Eh Ok Con coraggio allora Entriamo noi qua Oh Wow Oh eh Ehi 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 Bastardi mi hanno chiuso dentro Cazzo E ora? Che c'è qua? Che è questa grande Stanza enorme qua? Eh Chi è che Che c'è qua? Sono abbastanza impaurito Da questa stanza gigantesca E che cos'è questa cosa qua al centro? Eh? Ah Oh mio Dio Ah Oh Dio Ah Paura Paura Oddio Pina Butter Jelly Time Oddio Che paura orrenda Oddio Vaffanculo Pina Butter Jelly Time Dov'è? È ancora lì? Oh no Oh no È ancora lì? C'è Pina Butter Jelly Time Oh no Peanut Butter Jelly Time Mettiamo le sedie in mezzo alle balle Così non fa Oh mio Dio Ho preso una paura ragazzi Che non fa bene eh Non fa bene prendere paura in questo modo È proprio È controindicato Dov'è? Non lo vedo più Peanut Butter Jelly Time Oh no Peanut Butter Jelly Time Dov'è? È lì giù È un bastardo Peanut Butter Jelly Time Non vedo nulla Oddio Peanut Butter Jelly Oh una chiave Eh 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 Peanut Butter Jelly Time Tegame Dove cazzo sei? Mi hai fatto prendere una paura Che la metà basta Dove devo andare? Ah Peanut Butter Jelly Time Jelly Time Jelly Time Peanut Butter Jelly Time Jelly Time Oh no Dove devo andare? Di là c'è un'altra porta Andiamo di là Corri 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 Cazzo di poco Non mi cadevo dalla sedia Non è cadevo Non cadevo dalla sedia Ok 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 Ehi Ehi Apri Devi aprire C'è Peanut Butter Jelly Time Dietro Vaffanculo Peanut Butter Jelly Time Ho preso paura In un modo proprio Brutto eh Porca puttana Peanut Butter Jelly Che fastidio Cazzo Ma quando mai Uno si deve cagare Addosso in questa maniera E' proprio brutto Controindicato Oh Ok Che è successo L'abbiamo vinto? L'abbiamo vinto Forse Ehi là Siamo liberi? Oh Abbiamo vinto No Shoop da whoop I'm fine Ma lesa Oh mio dio Però era bellissima Oh Questa mappa era fantastica Mi sono scagazzato addosso Come una femminuccia Un paio di volte Però tutto sommato Era davvero bellina Quindi Oh guarda C'è anche la musichetta Come si chiamava questa Rick Non so che Comunque sono contento Di averci giocato Anche se è stata un po' Paurosa Gioccherò anche la 2 Perché a quanto so Esiste Dark Room 2 Quindi giocherò anche quella E intanto Vi ringrazio Per aver visto questo video Vi ricordo Di cliccare Quel piccolo pulsaltino Mi piace Perché mi fa piacere E Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Lasciate un commento E consigliatemi Altre mappe da giocare Di Amnesia Perché Insomma Anche se mi sono spaventato Abbastanza Come una femminuccia E cazzosa Comunque mi sono divertito Quindi Avrò piacere di giocarne Qualche altra E Vi ringrazio per aver visto questo video E vi auguro una buona giornata Se la giornata di oggi Dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Riguardatelo domani Lion Out Iscriviti